Ciao a tutti da Chris Atticezza, il servitore del blog, eccomi qui con Mario e Luigi Bros. Salutiamo tutti gli utenti di YouTube. Un saluto a tutti gli utenti di YouTube. My Twitter. The Space Twitter. Facebook. Li salutiamo. Dove vi trovano voi? Tu Facebook. Dove vi trovano? Gabriele Di Bello. Gabriele Di Bello. Anthony Cavorale. Perfetto. Ovviamente sanguiamo tutti i fans di Mario e Luigi Bros. Ovviamente. Ciao a tutti. Chris Atticezza, il servitore del blog. E... Gabriele. Ciao. Ciao.